Alla fine abbiamo rischiato un pochino di più con le scelte a muro, la squadra ha lavorato nettamente meglio a muro difesa, soprattutto dalla metà del quarto in poi. Facciamo ancora troppa fatica in cambio palla, anche con la palla in mano, oggi abbiamo avuto un sacco di problemi come l'altra volta con la fast, così il nostro gioco diventa troppo prevedibile sull'attacco a due. Sull'attacco a tre siamo andati abbastanza bene, solo che se vogliamo portare a casa questa finale dobbiamo migliorare questo aspetto, abbiamo due giorni e dobbiamo trovarci su questo aspetto. Per me la squadra la conoscete praticamente a memoria, qual è la giocatrice che al di là della rete fa la differenza? L'altra volta Cruz e Pavana abbiamo fatto la differenza, oggi soprattutto la Pavana abbiamo fatto fatica a tenerla, poi ci siamo trovati benissimo nella fase finale del set, abbiamo fatto sia muro difesa benissimo su di lei, la Cruz l'abbiamo tenuta molto meglio rispetto all'altra gara e la fast della Guigi che ci aveva dato molto fastidio nella gara 1 oggi è stato comunque meno problemi. Quindi questo qui sono stati degli aspetti su cui abbiamo lavorato meglio. Una grandissima prestazione, si può dire che hai salvato davvero la partita, che emozioni! Beh grandissima perché comunque le mie compagne le ho viste in difficoltà, sono entrata e ho detto qua devo dare il massimo e con sangue freddo senza aver paura perché non serve aver paura in questi momenti. Perdere oggi non c'avamo proprio voglia, siamo state brave a lottare fino alla fine, la Foppa non muore mai, l'unica cosa è che dobbiamo essere più determinante nel momento in cui l'avversario ha un po' di blackout. Noi siamo partite benissimo e dovevamo subito, invece ci siamo spenti un attimo e questo sarà importante per mercoledì. L'importante è che prendiamo i tre punti, li prendiamo noi, poi se è time break 3 a 1, 3 a 0 ben venga. È stancante però 5 a 7 tirati così. Eh vabbè questo è il gioco, certamente tutti quanti piacerebbe chiudere 3 a 0 però se occorre chiuderlo anche al time break 17 a 15 come abbiamo fatto questa sera va benissimo.